Rettore, oggi si avviano le attività didattiche del Jean Monnet, quali sono gli spunti più interessanti che estremiamo dal dibattito? Innanzitutto il fatto che se ne possa discutere, perché questo è un iter lungo, quello dell'ottenimento di una cattedra Jean Monnet, ci sono state più di mille domande di tanti paesi concorrenti e soltanto 134 sono state selezionate e in Italia sono giunte solo quattro cattedre. La nostra è l'unica al sud, poi c'è stato Bologna, Milano e l'Istituto di Architettura di Venezia, quindi un riconoscimento importante rispetto al lavoro che ha fatto il gruppo di ricerca di diritto europeo e una cattedra di grande impatto rispetto sia all'attività per gli studenti, sia per il coinvolgimento dal punto di vista dell'attività scientifica e didattica, sia discutere di questi temi in un momento che è sicuramente delicato per il nostro paese. Io credo quindi tra l'altro su un tema, quella della sicurezza nel campo della salute, che è un tema tipicamente trasversale, che riguarda gli aspetti più giuridici ma anche i problemi collegati all'aspetto della salute, appunto i problemi collegati qui di medicina, i problemi legati agli alimenti, farmacie, insomma un tema tipico di contaminazione che caratterizza proprio l'essere del nostro Ateneo e quindi come ho sottolineato, questo tipo di studi e questo tipo di cattedra sicuramente riscuoterà un successo per le caratteristiche del nostro Ateneo.